Un vero e proprio scrigno giace nei fondali marini di Gela, giace infatti per la mancanza di finanziamenti regionali. Veri e propri giacimenti culturali che potrebbero rappresentare un volano per il turismo, per l'economia e per l'occupazione giovanile del territorio. Non è concepibile che la regione rimanga ancora sorda alla tematica del bene culturale di Gela in particolare. Non si vuole capire che potenziando l'attività archeologica gelese ne trarrebbero frutto la stessa città e la Sicilia intera. E' quanto sostiene Nuccio Mulei dell'archeoclub Gela che ha preso carta e penna e ha scritto a varie istituzioni. Non si interviene perché a mio modo di vedere non si capisce l'importanza di quello che si potrebbe trovare nel fondale del mare di Gela. Ultimamente ho letto un articolo, si riferiva al 2000, dove un archeologo francese con dei sonar e delle onde magnetometriche è riuscito a mappare una zona canopica del Nilo, prospicente del Mar Mediterraneo, dove ha ritrovato con questo tipo di mappatura una città sommersa, Eracleion. Vedi caso la omonimia con la nostra città che nella fase di fondazione si chiamò Eraclea per e proprio. Quindi una coincidenza. E quindi mi chiedo io perché non si riesce a mappare questo fondale che ha dei tesori sommersi. Ma sono tesori della Seconda Guerra Mondiale da una parte e di archeologia greca dall'altra parte. Ora immaginate un po' cosa potrebbe esserci in questi fondali. Già sono stati ritrovati tre navi. Ci sono cronache storiche che parlano di aerei abbattuti, qualcosa come 37 aerei americane abbattute dalla stessa conciaere americana per fuoco amico, carri ammati sommersi, armi di qualsiasi tipo. Quindi perché non si riesce a mappare? Allora io ho scritto a tutta una serie di istituzioni, dalla regione alla soprintendenza del mare, a quella di Caltanissetta, al museo, al comune e alla sezione Marinostrum di Archeo Club d'Italia che si occupa proprio di queste situazioni qui. Quindi perché sinergicamente non si riesce a realizzare questa collaborazione e quindi avere dei finanziamenti? Perché non ci vorrebbero molto denaro per fare questa mappatura. E quindi sapere cosa c'è nel fondale del mare di Gela e recuperarli piano piano con altri finanziamenti possibilmente dell'Unione Europea perché questa situazione non ha interesse solamente culturale e archeologico, ha anche interesse economico ed occupazionale. Immaginate voi che cosa significherebbe andare a realizzare in Sicilia, a Gela in particolare, un museo dello sbarco che metterebbe nel suo interno tutti questi reperti. una cosa eccezionale che sarebbe ai primi posti a livello mondiale.